Benvenuti a Meteo Giulianci.it. Oggi mercoledì 3 aprile, bel tempo sulle regioni di nord-ovest, anzi direi cieli sereni sulle regioni di nord-ovest, dongle sul resto d'Italia, qualche pioggia soprattutto al sud, piogge debole a residue perché si sta allontanando la perturbazione numero 1 di aprile, quella che è raggiunta nella giornata di lunedì. Domani si parte con nuvole in aumento sulle regioni di nord-ovest, domani giovedì 4, piogge al mattino già sul Piemonte, sul Ponente Ligure e sulla Sardegna perché arriva la perturbazione numero 2 di aprile, perturbazione che nel pomeriggio porterà piogge sulle regioni di nord-ovest e centrali e nella sera di domani piogge su tutto il centro nord, ancora bello invece domani sulle regioni meridionali. Ovviamente nella giornata di domani ci saranno anche nevicate a quote medio-alte sulle regioni alpine. Nella giornata di venerdì insiste ancora la perturbazione numero 2 sull'Italia, al mattino piogge ancora su tutto il centro nord di forte intensità sull'Emilia, nel pomeriggio ancora piogge sul nord Italia, sull'Umbria e sulle Marche. Poi a fine giornata il tempo tende a migliorare su quasi tutta l'Italia, tant'è che sabato e domenica saranno due giornate con bel tempo su tutta l'Italia ma con una particolarità. Infatti tra sabato domenica le temperature superano una brusca discesa su quasi tutta l'Italia, dando la sensazione di freddo su molte regioni, soprattutto su quelle del versante adriatico. Bene, riprendiamo con la giornata odierna, parlavamo di oggi e mercoledì, vediamo l'immagine del satellite delle ore 8 di questa mattina, vedete le nuvole ormai sfilacciate che interessano l'Italia perché la perturbazione numero uno ormai si è spostata verso i Balcani, ma attenzione a quella perturbazione sulla Spagna perché è quella che arriverà nella giornata di domani giovedì e insisterà sull'Italia come abbiamo visto fino alla giornata di venerdì, interessando soprattutto le regioni centro-setenzionali. Bene, andiamo avanti, vediamo la situazione prevista per questa mattina, vedete il sereno sulle regioni di nord-oeste, nuovele sul resto d'Italia, qualche pioggia sul Veneto, sull'Apennino e Emiliano, qualche pioggia anche sulla bassa Toscana, ma le piogge più continue e più insistenti le troveremo soprattutto sulla medio-bassa Puglia, sulla Calabria e sul nord della Sicilia. Andiamo a vedere la situazione per il pomeriggio, vedete ancora qualche piovasco sulle Alpi orientali, sull'Apennino e Emiliano, ma ancora le piogge più continue le troviamo sulla medio-bassa Puglia, sul Materano, sul Salernitano e sulla Calabria. Vediamo le temperature, temperatura ovviamente in rialzo, stante la serenità o le poche nuvole su gran parte dell'Italia e quindi temperature per lo più gradevole. Bene, termino qui e vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.